Primo raduno provinciale dei Bersaglieri a Gela per celebrare la festa della liberazione. In occasione della ricorrenza del 25 aprile, l'Associazione Nazionale Bersaglieri di Caltanissetta organizza una sfilata con le fanfare che partirà dal Largo San Biagio e arriverà in Piazza Umberto I facendo tappa al monumento ai caduti per la deposizione di una corona d'alloro. Vogliamo far conoscere a Gela quello che è il simbolo di questo corpo dell'esercito fondato nel 1836 dal generale Lamarbora. Un modo anche per valorizzare quelli che sono dei valori probabilmente sconosciuti alle ultime generazioni ma valori nobili che noi magari racchiudiamo dentro. La manifestazione organizzata con il patrocinio del comune di Gela. Un onore che l'Associazione dei Bersaglieri abbia deciso di gestire questo evento su Gela e in questo modo c'è la volontà di voler sensibilizzare, proprio da qui parte il nostro progetto all'interno delle scuole i ragazzi in un percorso educativo di sensibilizzazione delle istituzioni, del valore delle stesse e del valore delle forze e dell'ordine così da cominciare a iniziare e perseguire quel percorso iniziato molto tempo fa e continua gradualmente a volersi portare avanti. Una manifestazione importante, vedere sfilare e correre i bersaglieri per le vie della nostra città credo che rafforzi il legame verso la nostra terra, verso la nostra patria. Congito col 25 aprile, devo dire che normalmente si festeggia su Caltanissetta però quest'anno abbiamo avuto l'opportunità di avere un retorno regionale proprio qui su Gela per dei bersaglieri e allora ci è sembrato giusto stare accanto a queste persone che ricordano il momento in cui hanno servito la patria e quindi di dare un valore aggiunto alla manifestazione che i bersaglieri fanno in tante città. E intanto domani martedì 24 aprile in programma un incontro alle 9.30 al Teatro Eschilo con gli alunni degli istituti comprensivi della città per inculcare ai bambini il valore e il rispetto della bandiera e delle istituzioni. I bambini che sono ancora in tenera età possibilmente non si rendono conto che c'è qualcuno che tutela e garantisce questi loro diritti. Infatti abbiamo fatto un percorso di conoscenza dei loro diritti e appunto attraverso questo la tutela ma non solo della famiglia, della scuola che sono istituzioni a loro vicini ma anche di istituzioni che magari non conoscono. L'appuntamento con il raduno dei bersaglieri è per mercoledì 25 aprile a partire dalle 9.30 nel piazzale adiacente al cimitero monumentale.